Dobbiamo purtroppo dire che l'Austria ha ragione, lo diciamo con rammarico, però dobbiamo dire che l'Austria ha ragione a fare questo perché non si fida del governo Renzi, non si fida di come il governo Renzi gestisce le politiche dell'immigrazione. L'Italia è vista un po' come la Grecia, i paesi confinati con la Grecia stanno mettendo le barriere dappertutto perché la Grecia non sa gestire l'immigrazione e la stessa cosa fa l'Austria. Quindi paghiamo questa situazione perché il Trentino Alto Alge rischia di diventare la pedusa del nord con questa chiusura austriaca, paghiamo questa situazione per l'incapacità del governo Renzi di gestire l'immigrazione.